Dopo giorni di dispettoso silenzio, la sindaca di Foggia Episcopo è intervenuta per ringraziare la città per come ha vissuto una tragedia che ognuna e ognuno ha sentito come propria, per la vicinanza espressa ai familiari, ai parenti e agli amici di Michele Biccari, Gaetano Gentile e Samuel Del Grande, ed anche per la partecipazione alla Camera Ardente e al funerale. Episcopo ringrazia gli Ultras e tutti i tifosi della squadra rossonera, coinvolti in prima persona e che hanno dato prova, sottolinea, di maturità e correttezza incomiabili, senza tralasciare tutti quei tifosi di altre città che hanno espresso il loro cordoglio in tutti i modi dalla presenza a Foggia all'invio di corone di fiori, dall'affissione di striscioni alle condivisioni social. Episcopo ringrazia anche l'apparato comunale, che sin da subito si è messo in moto ed è stato coinvolto a tempo pieno nell'organizzazione di cui poi si è fatto d'intesa, con Prefettura, Questura, Protezione Civile e Associazioni di Volontariato, ASL e Policlinico riuniti. Un ringraziamento anche alla Curia Vescovile e a Monsignor Giorgio Ferretti per la sensibilità mostrata e per le parole toccanti e delicate. Ed ancora la presidenza del Calcio Foggia 1920, la società tutta, la squadra, che hanno confermato il loro attaccamento alla città. Episcopo ringrazia ancora le persone per strada, in attesa dei feretri, gli studenti, le studentesse, i commercianti. E poi rivolge un pensiero accorato ed una preghiera per Matteo e Samuele, che stanno lottando all'ospedale di Potenza per la loro vita e alle loro famiglie. Infine, l'assessore comunale alla Polizia Locale, Daniela Patano, evidenzia come Polizia Locale, Protezione Civile e Associazioni al Servizio di una comunità sotto shock abbiano dato prova di efficienza ed umanità. Dentro e fuori la cattedrale, al Palazzetto dello Sport, e allo Zaccheria. Lungo le principali arterie cittadine sono stati, dice Patano, una presenza rassicurante e silenziosa insieme a operatori e volontari della Protezione Civile e delle associazioni locali, che a titolo gratuito hanno scelto di esserci e di mettersi a disposizione della comunità in un momento così delicato ed impegnativo.